Poco meno di 30 contagi ed un solo decesso all'inizio dell'emergenza. In una situazione complessa e grave per l'intera provincia, San Martino Siccomario resiste di fronte alla problematica coronavirus. Un quadro che lo stesso sindaco Zocca definisce sotto controllo. In questo momento devo dire che nonostante la difficoltà e la situazione veramente difficile dell'epidemia in corso, San Martino in questo momento la situazione è sotto controllo, abbiamo sostanzialmente un numero ridotto rispetto al numero di abitanti di contagiati perché parliamo di un numero di circa 27 che corrisponde praticamente sui comuni dei 5.010 abitanti, probabilmente uno dei dati migliori della provincia. Abbiamo avuto un solo decesso dall'inizio dell'emergenza associabile direttamente al coronavirus per una persona anziana con presenti altre patologie. E quindi in questo momento mi ritengo sindaco di uno dei comuni fortunati, o forse devo ringraziare i cittadini e gli operatori perché stanno comportando nel migliore dei modi. Nonostante una situazione tutto sommato gestibile, l'amministrazione comunale non si è fatta comunque trovare impreparata, mettendo in campo tutte le forze e gli strumenti a sua disposizione. Abbiamo lavorato in maniera seria, silenziosa e secondo me efficace. Innanzitutto abbiamo garantito sempre i servizi essenziali del comune, garantendo la possibilità di avere un punto di riferimento comune in ogni momento dell'emergenza. Anche quando altri uffici o altre situazioni, spaventate le situazioni, hanno deciso di chiudere, da noi sono sempre rimasti aperti i servizi essenziali. E questo è stato il primo passo importante. Il secondo, abbiamo messo in funzione subito la protezione civile per garantire l'assistenza di base alle persone contagiate e quarantenate, in maniera tale che ricevessero spese medicinali a casa puntualmente, in caso non avessero familiari che potessero seguirli direttamente. Successivamente abbiamo adottato tutte le misure che ritrovavano necessarie e che ci permetteva il governo per sopperire alle esigenze delle famiglie arrivate in situazioni di difficoltà. Su questo devo riconoscere il valore fondamentale del lavoro dei volontari della protezione civile e delle altre associazioni di protezione civile presenti sul territorio, quindi il gruppo comunale, la CISUM, quindi diciamo dei coagliari di Malta, e la BCS, i volontari cinofili di protezione civile, perché hanno dato un contributo fondamentale per garantire una rete veramente efficace di distribuzione.